Brand, Spending Review, Jobs Act, Welfare, Local Tax. Potremmo continuare a lungo ad elencare le parole prese soprattutto dalla lingua inglese che hanno contaminato l'italiano e che ormai sono diventate di uso comune. Ma quanto queste parole sono comprese dall'opinione pubblica? La risposta è poco se pensiamo che 6 italiani su 10 non conoscono nemmeno le basi di una lingua straniera. Del ritorno all'utilizzo delle parole italiane, laddove ci sia il corrispettivo del termine estero e di quanto sia ormai contaminato il linguaggio dei mass media, si è discussa a Pescara in un convegno organizzato dall'Ordine dei giornalisti e intitolato l'italiano al tempo della globalizzazione, a cui ha partecipato tra gli altri il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini. Non si tratta di un ritorno all'autarchia o di mero conservatorismo, si è detto durante il convegno, ma di salvaguardare l'identità nazionale che passa anche e soprattutto attraverso l'uso di una lingua comune, l'italiano. Dove c'è maggiore ignoranza, maggiore trascuratezza, maggiore arroganza e spesso nelle istituzioni pubbliche questo c'è, allora si apre, non per necessità ma per esibizionismo, a parole straniere. Gli scambi tra le lingue sono necessari, ci saranno certamente tante parole che dobbiamo acquistare adattandole, traducendole. Di chi è la responsabilità di questa situazione? Di tutti noi, i parlanti, coloro che la parlano e soprattutto quelli che si danno aria di essere i decisori per gli altri. I giornalisti devono stare molto attenti, spesso non solo loro che li inventano, li introducono, li vogliono imporre, ma sono spesso purtroppo passivi.